Salve a tutti, sono Vassilissa Berzianska e canto il ruolo di Dorabella nella nuova produzione di Così fan tutte di Mozart. Sono felicissima e onorata di essere tornata qui al Teatro d'Omaggio musicale di nuovo. Per noi adesso è molto molto importante di continuare a lavorare, continuare a fare le produzioni, i concerti. E noi abbiamo preparato un bellissimo spettacolo con il nostro regista Sven-Erich Bechtolz, con il maestro Zubin Mehta e con i miei meravigliosi colleghi. Quindi vi invito a seguirci in streaming prossimamente. Noi sempre sentiamo che voi siete con noi, noi sentiamo la vostra energia. Veramente non vedo loro quando ci incontreremo nel vivo. Ciao! Ciao!